ciao a tutti ragazzi benvenuti oggi vedremo come installare windows 10 da una chiavetta usb nei video precedenti vi ho mostrato come creare una chiavetta di installazione di windows 10 e anche come creare una chiavetta multiboot andiamo a vedere la descrizione del video tutorial installa windows 10 da chiavetta usb ragazzi lasciate un bel like alla fine del video se vi è piaciuto scorrete giù con la rotellina e qui dove vedete modifica video io adesso sono col mio account voi troverete la voce iscriviti iscrivetevi e attivate la campanellina così rimarrete aggiornati sui prossimi video ora clicchiamo su mostra altro così apriremo la descrizione troverete il mio contatto telegram i miei video tutorial le mie playlist i canali telegram e poi sotto come vedete ho lasciato i due video tutorial in descrizione su come creare una chiavetta di installazione di windows 10 metodo ufficiale e sotto crea chiavetta di installazione multiboot che sono i miei due video precedenti a questo andatele a vedere così vedrete come creare una chiavetta di installazione di windows 10 o una chiavetta multiboot come vedete qui c'è il metodo ufficiale per creare la chiavetta di installazione c'è il video tutorial quindi ragazzi guardate il video tutorial su come creare una chiavetta di installazione di windows 10 e poi dopo proseguite con questo video tutorial vi faccio vedere qui su esplora file la mia chiavetta usb esd usb clicco su questo pc ed ecco qua la mia chiavetta con tutti i file di installazione all'interno quindi chiudo la finestra adesso torno sul video tutorial sulla descrizione del video tutorial di questo video tutorial clicco ancora su mostra altro e qui ragazzi vi faccio vedere che ho lasciato un comando aprire gestione disco ho lasciato questo comando in descrizione per fare un po di chiarezza non voglio fare un video tutorial come tanti altri un po generici ma spiegarvi un po meglio le partizioni e come formattare il vostro hard disk se formatare la solo la il disco locale c oppure cancellare tutto il disco quindi con gestione disco possiamo fare un po di chiarezza questo ovviamente per chi possa avviare un sistema operativo come windows 7 windows 8 windows 10 e in questo caso può usare gestione disco ho lasciato questo comando perché in windows 7 per aprire gestione disco bisogna usare un metodo in windows 8 un altro metodo in windows 10 un altro metodo ho messo questo comando per avere una cosa generica per tutti e tre i sistemi operativi quindi per facilitarvi quindi ragazzi copiate questo comando cliccate col tasto destro lo selezionate in blu cliccate col tasto destro e cliccate su copia possiamo andare a minimizzare il browser e andiamo a creare un collegamento per aprire gestione disco per farlo ragazzi cliccate col tasto destro in un punto vuoto del desktop cliccate su nuovo e nel sottomenu cliccate su collegamento e andiamo ad incollare il comando che abbiamo copiato dalla descrizione qui al centro dove leggete immettere il percorso per il collegamento cliccate su avanti diamo un nome al nostro collegamento io lo chiamerò gestione disco e clicchiamo su fine ecco qua il nostro collegamento possiamo aprire gestione disco con doppio clic sul collegamento andiamo ad ingrandire la finestra per avere tutto un po più in grande quello che dobbiamo fare è individuare il volume c in quale disco si trova in questo caso noi abbiamo il disco locale c in disco 0 il volume c è in disco 0 questo è importante ragazzi in fase di installazione perché come vedete io ho anche disco 1 che è il mio secondo hard disk e poi vabbè la chiavetta che non vedrò in fase di installazione però vedrò sia le tre partizioni del disco 0 che in fase di installazione si chiamerà unità 0 e si ha l'unità 1 che sarà il disco 1 quindi è molto importante capire qual è il disco di windows in questo caso il disco 0 in pochissimi casi di solito il disco 0 ma in pochissimi casi potrebbe capitare che a voi il volume c sia in disco 1 o disco 2 in base a come è stato installato quindi attenzione mi raccomando ora che sappiamo che il volume c in disco 0 possiamo chiudere gestione disco e possiamo riavviare il sistema operativo io nel mio caso clicco su arresta per spiegarvi un po come dovete fare se cliccate su riavvia dovete essere pronti a premere il tasto del boot menu dalla tastiera io nel mio caso avendo un msi dovrò premere il tasto f11 voi andate su internet fate una ricerca e vedete qual è il tasto per entrare nel boot menu per avviare da chiavetta ragazzi se non riuscite a trovare il tasto per entrare nel boot menu non vi preoccupate scrivetemi un commento e insieme troveremo il tasto relativo al vostro computer quindi io adesso ho arrestato il pc devo accenderlo e subito premere ripetutamente il tasto f11 ed ecco qua il boot menu quindi il menu di avvio come vedete io la prima voce ho windows boot manager che il mio windows 10 attuale e ho sotto wifi kingston data traveler che è la mia chiavetta di installazione di windows 10 vi faccio notare un particolare come vedete davanti alla marca della mia chiavetta kingston trovate la scritta wifi due punti questo significa che avete avviato il computer in modalità wifi l'ho già spiegato tante volte wifi nuova tecnologia di computer e legacy vecchia tecnologia quindi se trovate wifi davanti alla marca della vostra chiavetta questo significa che avviate in modalità wifi cosa cambia tra le due versioni cambia che se avete wifi dovete verificare di avere il secure boot disattivato se invece non trovate la scritta wifi posizionatevi con le frecce dalla tastiera sulla vostra chiavetta e premete invio e si avvierà l'installazione di windows 10 nel mio caso io dovrò entrare nel bios quindi dovrò posizionarmi su enter setup e premere invio oppure nel mio caso avendo la possibilità di usare il mouse cliccherò con il mouse ed eccoci qua nel bios non vi spaventate ragazzi ogni computer ha un bios differente io ho un msi se avete un msi siete fortunati se no potete scrivermi sempre nei commenti oppure su telegram ho il mio contatto personale chiocciola stex app potete contattarmi mandarmi delle foto e vi potrò aiutare nel caso abbiate un bios differente però guardate vi dico subito che dovete cercare la scheda boot io qua adesso non ho la scheda boot per andare aprire la scheda boot dovrò cliccare su settings quindi vado a cliccare su settings e qui al centro andrò a cliccare su boot qui troveremo le varie opzioni di avvio e come vedete su boot mode select mi dice che ho una versione di bios wifi però non ho il secure boot questo perché io il secure boot non lo trovo in nella scheda boot però io vi ho detto di trovarlo nella scheda boot perché solitamente al 90 per cento si trova nella scheda boot quindi perciò vi ho detto questo quindi io dovrò cliccare ancora su setting cliccare poi su advanced e cliccare sulla voce windows os configuration perché il secure boot ragazzi nel mio bios si trova in questo percorso voi cercatelo su boot nella scheda boot di solito lo trovate in alto in orizzontale le voci da aprire ma questo è un bios un po' differente da da altri quindi ora andiamo a verificare che il secure boot sia disattivato lo selezioniamo e come vedete nel mio caso è già disabilitato disable se a voi invece appare enable quindi abilitato cliccate su disable e premete invio poi ragazzi per salvare ogni bios ha un tasto specifico di solito molti bios si possono si possono salvare le impostazioni appena cambiate con il tasto f10 in alcuni bios ho visto che si può fare anche con f4 voi provate f10 se no provate f4 o se no come vi ho detto in precedenza anche per entrare nel bios per scoprire il tasto relativo andate su internet e vedete come salvare il bios di solito trovate anche una leggenda che vi descrive come salvare nel mio caso non c'è però io lo so di mio che posso salvare con f10 quindi io premo f10 dalla tastiera apparirà un piccolo menu dove vi chiede di confermare quindi selezionate yes e premete invio oppure come me cliccate con il mouse se avete la possibilità il computer si rianvia e dovrete premere ancora il tasto relativo al boot menu per avviare la chiavetta quindi nel mio caso f11 ora che siamo sicuri di aver disabilitato il secure boot possiamo selezionare la nostra chiavetta e avviare l'installazione di windows 10 ci apparirà il menu di installazione di windows 10 dove possiamo selezionare la lingua in questo caso io lascio italiano e clicco su avanti come vedete c'è anche l'opzione ripristina il computer con questa chiavetta di installazione potete anche ripristinare il computer noi in questo caso dobbiamo installare windows 10 da zero quindi clicchiamo su installa in questa scheda vi verrà chiesto di inserire un product key da novembre 2019 potete inserire un product key di windows 7 se avete un product key di windows 7 professional vi installerà windows 10 pro se avete windows 7 home vi installerà windows 10 home questa cosa potete farla anche con windows 8 quindi potete sfruttare i product key delle versioni precedenti di windows una volta che avete immesso il product key potete cliccare su avanti se non avete invece un product key dovete cliccare su non ho un codice product key ora dovrete selezionare il sistema operativo da installare io consiglio windows 10 pro se avete un computer non molto performante vi consiglio anche di provare windows 10 pro n che è una versione più leggera quindi selezionate la versione che desiderate e cliccate su avanti ora dobbiamo accettare le condizioni di licenza andiamo a cliccare nel quadratino e clicchiamo su avanti qui ci chiede che tipo di installazione vogliamo eseguire dobbiamo cliccare su personalizzata installa solo windows opzione avanzata apparirà il menu con le partizioni di tutti i dischi collegati internamente nel vostro computer tranne i dischi collegati tramite usb quindi come vedete qui io ho unità 0 partizione 1 unità 0 partizione 2 unità 0 partizione 3 unità 0 partizione 4 quindi l'unità 0 è il disco 0 che abbiamo visto precedentemente in gestione disco ok quindi come vedete mi ha già selezionato la partizione la prima partizione disponibile dove posso installare windows però non sempre può essere quella però come vedete è 222 gigabyte virgola 9 in gestione disco se voi tornate indietro nel video vedete che il volume c in gestione disco era 222.9 gigabyte quindi questo è il mio disco locale c e poi è unità 0 quindi disco 0 quindi non possiamo sbagliarci un altro suggerimento che posso darvi è vedere dove si trova la partizione di sistema quindi come vedete la partizione di sistema a me si trova nella unità 0 partizione 1 e quindi sono sicuro che windows è installato sul disco 0 quindi ora dobbiamo selezionare la partizione nel mio caso quella da 222 gigabyte e cliccare su formatta così andremo a formatare il disco locale c ci apparirà un messaggio di sicurezza è possibile che questa partizione contenga file ovviamente noi sappiamo che contiene file ma dobbiamo formattare e quindi diamo conferma e clicchiamo su ok apparirà la classidra che vi fa capire che sta lavorando e come vedete spazio disponibile 192 gigabyte ma appena avrà formattato avremo lo spazio disponibile pieno ecco qua 222 gigabyte mentre prima erano 192 quindi abbiamo formattato il disco locale c il volume c possiamo cliccare su avanti e abbiamo terminato ragazzi in questo modo non verrà eliminata la partizione di ripristino io adesso non ho cliccato su avanti perché voglio farvi vedere l'altro metodo quello che io uso abitualmente quindi quello di eliminare tutte le partizioni del disco 0 dove si trova la partizione di sistema quindi clicco su unità 0 partizione 4 e clicco su elimina confermo cliccando su ok e come vedete mi appare spazio non allocato faccio la stessa cosa per la partizione 3 sempre dell'unità 0 clicco su elimina e ancora su ok stessa cosa per la partizione 2 dell'unità 0 clicco su elimina e clicco su ok ragazzi non sbagliate unità 0 oppure l'unità dove si trova il sistema quindi clicco ancora su partizione 1 dove si trova il sistema clicco su elimina e poi su ok ok ragazzi ora troveremo tutto il disco non allocato vedete la prima voce spazio non allocato unità 0 223 gigabit punto 6 selezioniamo questa partizione sotto come vedete il mio hard disk non lo tocco l'unità 1 che contiene tre partizioni seleziono la partizione dell'unità 0 quindi lo spazio non allocato e clicco su avanti e creerà in automatico tutte le partizioni che serviranno per avviare windows 10 quindi potete usare questi due metodi questo metodo cancella totalmente il disco quindi è un'installazione pulita vera e propria però vi ripeto va a cancellare la partizione di ripristino quindi se voi volete mantenere la partizione di ripristino di fabbrica usate l'altro metodo formattate solo il volume c e cliccate su avanti detto questo clicchiamo su avanti e si avvierà l'installazione di windows 10 apparirà un menu dove dovete cliccare riavvia ora o attendere 10 secondi il sistema si riavverà automaticamente appariranno queste scritte avvio dei servizi caricamento dei dispositivi fase preliminare dovete attendere un po ragazzi dipende dal vostro hardware come nei video precedenti vi consiglio di acquistare un ssd quindi passare da hard disk a ssd perché davvero la velocità è 10 volte superiore se non di più quindi magari lascerò in descrizione un ssd quello che sto usando io in questo momento un crucial da 240 gigabyte che costa sui 30 32 euro davvero la spesa è minima ma la qualità a confronto è immensa lascerò il link in descrizione se non trovate il link scrivetemi un commento e lo inserirò una volta terminata la fase preliminare effettuerà un altro riavvio dobbiamo attendere che appaia il menu di prima configurazione dove dobbiamo creare un account e settare le varie opzioni ed ecco qua il menu di configurazione ok iniziamo dalla zona italia clicchiamo sì nella seconda scheda ci chiede se il layout di tastiera è giusto noi abbiamo italiano clicchiamo sì qui ci chiede se vogliamo aggiungere un secondo layout di tastiera clicchiamo su ignora a meno che non volete aggiungere un altro layout di tastiera attendiamo in questa scheda dobbiamo cliccare su configurazione per uso personale e cliccare su avanti qui vi chiede di aggiungere un account vi consiglia di mettere un account microsoft quindi di inserire una mail il telefono o un account skype io vi sconsiglio di mettere un account microsoft perché tanti si sono lamentati di avere il doppio account hanno avuto problemi e quindi vi consiglio di usare un account offline poi va a piacere fate come volete io preferisco un account offline se dovesse lampeggiarvi lo schermo come sta succedendo in questo momento nel mio monitor non vi preoccupate anzi è una cosa positiva vuol dire che sta installando sta già aggiornando i driver della scheda video quindi non vi preoccupate tutto normale detto questo io vado a cliccare su account offline vi apparirà questa schermata dove vi farà vedere i vantaggi se usate un account online io clicco su esperienza limitata perché voglio creare un account offline chi userà questo pc immettiamo il nome account che desideriamo io scrivo stexup e clicco su avanti ci chiederà di creare una password molto facile da ricordare potete immettere una password cliccare su avanti e vi chiederà di digitare nuovamente la password per confermare poi vi chiederà di scegliere tre domande di sicurezza e tre risposte in caso dimenticaste la password queste sono tutte opzioni facoltative io cerco di immettere delle opzioni che mi rendono il sistema operativo più veloce qui clicco di non utilizzare il riconoscimento vocale online e clicco su accetta su posizione clicco no e clicco su accetta queste cose potete abilitarle anche dopo a sistema operativo avviato potete abilitare tutte le funzioni quando volete trovo il mio dispositivo clicco no e clicco su accetta invia dati di diagnostica non posso mettere no c'è base o completo clicco base e clicco su accetta migliora l'input penna e la digitazione anche qui clicco no e clicco su accetta ottiene esperienze personalizzate con i dati di diagnostica anche qui clicco no clicco su accetta consente alle app di usare l'id annunci clicco no e clicco su accetta sincronizzare le tue attività clicco no perché non ho messo un account offline ho messo un account offline quindi se voi avete una avete messo un account online potete mettere sì se volete qui permetti a cortana di rispondere cortana potete cliccare il quadratino io non lo uso e clicco non ora e attendiamo che ci appaia il desktop ok ragazzi siamo arrivati alla fine come vedete qui in basso a destra sta cercando i driver video quindi inizialmente sarà forse un po lento soprattutto per chi ha un hard disk perché dovrà aggiornare tutti gli hardware e gli aggiornamenti di windows qui ci consiglia di effettuare un riavvio quindi dopo un due o tre riavvi quando avrà aggiornato il tutto vedrete un sistema operativo un po più veloce inizialmente sarà un po lento per chi possiede un ssd un buon processore un ram efficiente avrà subito windows 10 veloce da subito quindi come vi dicevo vi consiglio di passare da un hard disk a un ssd come vedete qui in basso anche l'audio mi segna la barra rossa perché non mi rileva i driver audio ma non vi preoccupate perché automaticamente essendo connessi a internet si aggiorneranno e avrete il vostro audio funzionante se non dovesse essere così potete contattarmi se siete esperti andate sul sito della casa produttrice del vostro computer e scaricate il driver audio se non sapete come fare mi contattate mi mandate un messaggio mi dite marca e modello del pc e provvederò a inviarvi il driver opportuno per la vostra scheda audio scheda di rete se dovesse mancarvi il driver per la scheda di rete è un problema perché dovrete avere un altro computer questo perché ovviamente non potrete navigare in internet e scaricare il driver quindi avrete sicuramente un amico che potrà farvi accedere al suo computer oppure chiedergli di farvi scaricare un file metterlo su chiavetta e così potrete installare il driver della scheda di rete se dovesse mancarvi come vedete a me risulta di avere il driver della scheda di rete c'è il simbolo della scheda di rete quindi sono a posto come vedete la risoluzione dello schermo è un po piccola io vado a cambiarla clicco col tasto destro su un punto vuoto del desktop clicco su impostazioni schermo e vado a cambiare il ridimensionamento light da 100% a 150 così vedete un po più in grande io preferisco tenerlo così un altro consiglio che vi do è quello di disattivare gli aggiornamenti automatici delle app questo perché come ho detto nei video precedenti è inutile aggiornare centinaia di app se poi non le usate quando dovete usare un'app e mi chiederà l'aggiornamento potete fare l'aggiornamento su quella specifica app io disattivo anche il riquadro animato perché mi dà un consumo di ram inutile visto che non mi interessa e sono a posto per quanto riguarda l'attivazione io avevo già una licenza sulla mia scheda madre quindi in automatico ho windows 10 attivato se voi non avete una licenza di windows 7 come vi ho detto in precedenza o di windows 10 andate sul mio canale magari lascerò il link in descrizione e guardate il mio video tutorial come attivare windows 10 per sempre gratis bene ragazzi il video tutorial termina qui se vi è piaciuto lasciate un bel like condividete iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video ciao ciao